La Polizia di Stato ha celebrato il suo patrono, San Michele Arcangelo, e ha deciso di farlo nella chiesa di Saione, quartiere Caldo dell'Aretino. Una scelta attesa sottolineare ancora una volta la presenza e la vicinanza ai cittadini, come sottolinea lo stesso questore di Arezzo, Enrico Moia. Oggi abbiamo inteso celebrare qui a Saione la ricorrenza del nostro santo patrono per testimoniare la presenza sul territorio dei cittadini in un momento in cui i bisogni di legalità sicuramente lo avvertiamo e lo percepiamo. La presenza non è casuale, è stata una scelta voluta da me sicuramente, come anche la presenza di cittadini migranti per dare un segnale di solidarietà e anche di accoglienza nella legalità, nella sicurezza, cosa che nella provincia di Arezzo possiamo dire si sta svolgendo in questi criteri. Quindi questo è un messaggio che diamo alla città, in un momento in cui gli episodi negativi vengono comunque registrati, attentamente avvaliati, ma ci sono anche delle attività di contrasto che ritengo che possono anche svilupparsi in maniera positiva. Ovviamente sono attività in corso le quali voi citate sempre quello che avviene, noi molte attività che sono in corso d'opera le possiamo esplicitare solo a fatti avvenuti. Comunque l'impegno c'è, siamo attenti a tutte le problematiche e la presenza sul territorio è consacrata anche con questi momenti di partecipazione con la città.